ciao sono alessandro pittoni founder di padova stories e questo è ps post scriptum il podcast di approfondimento su fatti cronaca attualità della nostra città assieme a me ivan grosso in compasso giornalista questo è il nostro punto di vista su quello che succede là fuori il nostro post scriptum oggi parliamo della mistificazione creata attorno alle parole e alla figura di elena cecchettin e alle accuse che le sono state mosse abbiamo anche chiesto un parere a leonardo bianchi giornalista padovano esperto di teorie del complotto che ha fatto chiarezza su alcuni passaggi fondamentalmente sin da a pochissimi giorni dal ritrovamento del corpo di giulia cecchettin è successo che dai social fino appunto alla politica sono spuntate fuori varie tre del complotto che fondamentalmente spostavano il focus del problema cioè il problema non era più femminicidio di giulia cecchettin ma era tutta un'altra serie di dettagli minori di cose anche fondamentalmente inventate che servivano a mettere diciamo sul banco degli imputati la famiglia parenti e chiunque diciamo cercasse di mantenere il punto sul problema principale che è appunto la cultura patriarcale abbiamo ascoltato leonardo bianchi ciao ivan oggi parleremo delle accuse assurde mosse ad elena cecchettin accuse poi fomentate da una parte dell'opinione pubblica e condannate dall'altra quello che ti chiedo è come nascono queste accuse e perché hanno fatto tanto discutere beh durante questa puntata sentiremo leonardo bianchi che un giornalista molto molto bravo padovano trasferito a roma da diversi anni che ci spiegherà però che le radici storiche di questo tipo di atteggiamento che si innesca immediatamente quando si trova di fronte a casi così importanti e che irrompono in maniera così fragorosa nella vita dell'opinione pubblica valde gambe nello specifico questo consigliere regionale veronese ha attaccato la sorella di giulia cecchettin elena l'ha attaccata facendo riferimento al satanismo anche svilendo quelle che erano le parole critiche di conto una società che non sa non sa guardarsi allo specchio e non sa definire quelle che sono dei limiti che vanno assolutamente superati e lui ha usato delle parole molto molto forti ha trovato grande spazio perché quel momento la notizia di giulia era notizia occupava tutti i media e quindi il rompere su quella questione gli ha permesso di avere grande visibilità una visibilità di cui ha bisogno perché perché da un lato rafforza quella parte di suo elettorato una minoranza che però gli consente di essere rappresentante delle istituzioni di essere eletto in regione uno che prende anche parecchi voti valde gamberi ma quei voti e sono quei voti che lui prende in quella in quelle letto parti elettorato che ha voglia e ha bisogno di sentirsi dire quelle cose e una minoranza che fa parte di quella offerta diciamo che risponde a quella offerta politica dando ragione a delle posizioni che naturalmente sono per la maggior parte delle persone fortunatamente folli ed esasperate poi va anche detto che valde gamberi da voce a realtà che si sentono messe in discussione leonardo bianchi si è tirato fuori questa teoria assurda in cui fondamentalmente qua vado a citare ad esempio un tweet su x x tweet in cui fondamentalmente si diceva che arena cecchettin essendo dedita alla magia nera avrebbe fatto un rituale nei confronti di turetta per spingerlo a commettere il male cioè uccidere la sorella quindi quasi arrivava a una completa inversione nella realtà eppure ad un'accusa piuttosto crude nei confronti di una persona che aveva appena perso un familiare in quel modo così orribile e questo è una teoria poi ci sono anche c'è anche questa tra l'altro è la stessa teoria che ha ripreso il consigliere valde gamberi ma non solo anche un altro consigliere di destra matteo montevecchi ha detto che addirittura ci ha fatto intendere che bisognerebbe indagare su arena cecchettin proprio per questi rimandi presunti rimandi satanisti e da qui poi si è proprio innescata una slavina e alcuni diciamo così influencer complottisti chiamavoli così hanno allestito elaborato una teoria ancora più assurda che fondamentalmente serve proprio a negare che sia avvenuto il femminicidio ecco tornando quindi alla natura delle accuse no che anche tu hai detto sono assurde sono allucinanti eppure trovano terreno fertile cosa vanno a fomentare e in questo senso elena diventa capro espiatorio di che cosa beh naturalmente vanno a fomentare tutta quella parte di persone come abbiamo anche già detto in qualche modo che non ha voglia di affrontare questo tipo di problemi ma perché perché metterebbero in discussione tutta una serie di capisaldi che invece tengono tengono in piedi il nostro paese ma guarda sembrerà fuori luogo ma anche il discorso del gap salariale una donna viene pagata meno di un uomo è un fatto e se dovessimo veramente affrontarla questa questione qua sarebbe un problema economico voglio dire lo dico scherzando però con grande serietà in realtà ma è soltanto diciamo un aspetto quindi poi è chiaro che fomentare diciamo certi istinti come è stato per esempio durante la pandemia con con lino vax fa anche sì che si aprano delle delle finestre e dove appunto queste voci diciamo vengono amplificate ma adesso magari può sembrare strano però sai chi una grande passione per i temi internazionali anche quando vent'anni fa 15 anni fa noi abbiamo potuto pensare per esempio che potesse nascere una forza tipo l'isis no che attirava così tanta gente e che in realtà proponeva un sogno irrealizzabile da realizzare attraverso la violenza attraverso la paura il terrore che aveva mai pensato che tanta gente avrebbe avrebbe accolto quell'appello con tanto entusiasmo eppure è accaduto il male se se lo si semina alla fine fa crescere delle piante malate ma le fa crescere ed è per questo che bisogna essere antidoto a questo tipo di linguaggio allora Ivan una delle cose che magari ha fatto anche più discutere è stato il fatto che nelle parole di Elena si cita appunto si mette si punta il dito contro il patriarcato ma lui è un figlio sano della società patriarcale che pregna della cultura dello stupro la cultura dello stupro è quell'insieme di azioni che prevedono e sono volte a limitare la libertà della donna molti uomini nonostante appunto non siano necessariamente degli omicidi si sono sentiti tirati in causa quindi in che senso viene puntato il dito contro il patriarcato e in che modo un uomo deve sentirsi preso in causa anche in maniera positiva per cercare di cambiare le cose io credo che e questo lo dico da osservatore che ha avuto la possibilità in questo mese drammatico di ascoltare tante voci con le tante persone io credo che gli uomini che sono posti la questione probabilmente sono quelli che forse dovrebbero porsene a meno il problema è stato invece la parte di maschi che dritta e incattivita ha replicato noi con questo non centriamo e urlando quel rivendicando quel noi non centriamo in realtà ci spiegano che invece centra nel come ma nessuno dice che la maggior parte dei maschi io dico maschi non uomini perché in questo caso di quello stiamo parlando sia violento e voglio uccidere qualcuno questo non lo stiamo dicendo però stiamo dicendo che certi atteggiamenti che certe che una certa cultura è presente elena cecchettin bisogna prevedere dell'educazione sessuale e affettiva in maniera da prevenire queste cose bisogna finanziare i centri antiviolenza in modo tale che se le persone debbano chiedere aiuto siano in grado di farlo quando noi sentiamo anche i ragazzini che litigano che si azzuffano perché la ragazza non è più di uno ma dell'altro che cos'è quello ed è incredibile che succeda da tra dei teenager va corretto immediatamente perché se noi si cresce pensando che la nostra fidanzata è nostra insomma poi dopo è difficile correggere questo tipo di comportamenti e poi c'è tutto il discorso invece legato anche al fatto che alla fine per molti e anche tollerabile no che una donna possa essere percossa o insultata o inseguita perché alla fine dei conti insomma non è così grave invece è grave ed è questo che è difficile da far comprendere elena è stata accusata di stregoneria perché durante l'intervista dritto e rovescio indossava una felpa da skate col pentacolo e poi è stata anche accusata di satanismo una calunnia che storicamente viene spesso utilizzata contro le donne ci spiega il perché di queste accuse leonardo bianchi la felpa di elena cecchettino che era una felpa normalissima della thrasher con il logo di skate got che è una cosa che risale agli anni 80 che sia degli iconografie sataniste ma chiaramente non è che rimanda non è un inno al satanismo è semplicemente un'icona contro culturale che poi adesso è totalmente mainstream tra l'altro in fondo cos'è che si imputa a elena cecchettino quello di essere una strega quello di per di fare dei rituali di usare la magia nera per far impazzire l'uomo che altrimenti sarebbe sano e perfetto e normale no e la cosa di stregoneria sappiamo perfettamente che è la calunnia misogine sessista per eccellenza è una leggenda d'odio che riaffiore periodicamente nei momenti cruciali o comunque i momenti in cui deve riaffiorare quindi non è così tanto assurdo se la si vede in profondità questa questa accusa ad elena cecchettino ivan tu cosa ne pensi l'aspetto della secondaria lo spiega benissimo poi leonardo è naturalmente rivolto alle donne ed è molto molto presente però facendo un mezzo passo indietro io credo che la necessità fosse quella di delegittimare immediatamente che è quello che poi si fa in generale quando qualcuno dice una cosa molto potente ma non ha le spalle così coperte come può avere magari un personaggio politico un industriale o una star a quel punto iniziano i problemi e perché si viene assediati accerchiati e si punta su quelle che sono i punti deboli scusate gioco di parole e poi il punto debole non è perché per uno che alla mia età per esempio il suo modo di truccarsi ricorda moltissimo i dark degli anni 90 però però basta questo questo tipo di messaggio quindi in realtà si è attaccata è una perché è talmente lucida e forte nelle cose che dice che a entrare nel contenuto sarebbe stato molto più complicato invece attaccarla su cose frivole è molto più semplice ma se si guarda alla politica si guarda al dibattito in generale degli ultimi anni su qualsiasi tema è sempre quella la chiave delegittimare la persona e questo è sbagliato è pericoloso è grave e se posso dire violento allora Ivan un'altra cosa che ha fatto molto discutere è in quell'intervento che ha fatto Elena quando alla fine dice vi chiedo una cosa parafrasando quello che ha detto per Giulia non fate un minuto di silenzio ma bruciate tutto questo ha molto spaventato e per Giulia vi chiedo non fate un minuto di silenzio per Giulia bruciate tutto che cosa che cosa si può dire su questo aspetto ma anche questo le parole sono importanti le parole sono potenti le parole sono armi diceva anche qualcuno nel 2001 facendo un salto veramente triplo carpiato le migliaia di persone milioni di persone che poi sarebbero andate a genova ad assediare i potenti della terra in maniera simbolica anche se poi dopo siamo stati perché c'erano anch'io come tanti insomma massacrati e non solo beh insomma si fu letta una dichiarazione di guerra una dichiarazione di guerra che evidentemente ed era scritta dai vuming e altri intellettuali insomma della della sinistra movimentista italiana e evidentemente non era una dichiarazione di guerra nel senso veniamo a con le armi a uccidere tutti quanti i potenti la era una dichiarazione di guerra in senso anche retorico ironico provocatorio cioè smontare diciamo un modo di gestire il pianeta e fu utilizzata come una dichiarazione di guerra cioè veramente le istituzioni per contrastare quelle milioni di persone la usarono come come una possibilità ed è per quello appunto che poterono militarizzare la città lo avrebbero fatto ugualmente ma usarono quella scusa ecco è la stessa cosa di bruciamo tutto non ha detto usciamo per strada con le moloto vince diamo la città a bruciamo tutto e vuol dire ripartire poi quella una traduzione dallo spagnolo e nello spagnolo quella di cittura non è come in italiano vuol proprio dire resettare ricominciare vuol dire buttare giù tutto e ritirarlo su ma è un immaginario è un immagine è un concetto ma non è una minaccia però chi è che si sente minacciato scusate sempre gioco di parole da questo tipo di linguaggio chi ha paura di essere smontato e messo via grazie evan nel prossimo episodio parleremo di come la tragedia della morte di giulia abbia innescato dei profondi cambiamenti sociali a livello nazionale hai ascoltato ps post scriptum un podcast di padova stories condotto da alessandro pittoni e ivan grotny compasso post produzione mix e sound design sono a cura isabella bortot